Grazie. Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è analoga a quella che ho dato su eventuali picchi dei tassi di interesse nel prossimo futuro. L'evoluzione per quanto riguarda il tasso di inflazione ci dice che la politica monetaria accomodante straordinaria attuale dovrà rimanere in vigore fino a quando non ci sarà un'evoluzione nel tasso di inflazione reale, cioè un processo di aumento dell'inflazione che sia sostenibile e conforme al nostro obiettivo, in modo sostenibile. In ogni caso la settimana prossima si riunisce il consiglio monetario direttivo che disporrà delle proiezioni dei nostri servizi interni.